Ho preparato già la cena per questa sera. Come vedete ho un forno dei fuselli di pollo. Io come ho fatti, ora ve lo dico, ho messo a macerare questi fuselli in un po' d'aceto, paprika dolce, paprika piccante, una punta di zucchero, olio, sale, pepe e tutti gli aroni per arrosti. Non ho messo aglio perché la sera si ripropone l'aglio, meglio che no. E l'ho messo in frigo per due o tre ore buone a far macerare bene. Poi, io siccome ho questi sacchetti, vedete, questi sacchetti da forno, tuttora senza grassi, che praticamente non va messo con i grassi. Io tutto il condimento che ho usato per mettere a macerare il pollo, non era granché, era poco, appunto, che se voi do metterlo qua, non l'ho messo, l'ho buttato. E con questi sacchetti, vedete, si stanno cuocendo. Ora vi faccio vedere meglio, aprendo il forno. Ecco qua, vedete? Questi sono i sacchetti che vanno al forno, che vanno al microonde. E ci si può fare di tutto, eh? Pollo, carne, verdure, tutto. E poi, ovviamente, i grassi rimangono in questa busta. Poi, per dare un po' di sfiato d'aria, si devono tagliare gli angoletti della fine del sacchetto, in modo che non si rompa il sacchetto, non si gonfia. E questa è la cena. A 200 gradi, perché dicono che questi sacchetti non si devono superati i 220 gradi. Io ho messo i 200 gradi. E poi andrò a fare un'insalata, sicché ho preparato. Eccola qua. Un'insalata. Penso che ci sia bene con il pollo, no? Ora metterò un po' di pomodori dentro e basta, la cena è fatta. Ecco qua. Questo è tutto stasera. Amiche, amici, ciao, ciao, buona cena, buona serata. Grazie. Grazie.